Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly. L'undici febbraio è stata la giornata europea del numero unico di emergenza 112. Oggi, in questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the road, vi parlerò, appunto, un pochino della giornata e un pochino del numero unico di emergenza, per cui cominciamo. Sigla! La giornata europea del numero unico di emergenza è stata istituita nel 2009 e non è stato scelto l'undici febbraio a caso, perché nella notazione europea è una data che si scrive come 11-2. Da una parte vuole essere l'ennesimo richiamo al fatto che il numero per tutte le emergenze su tutto il territorio europeo è l'112, dall'altra viene celebrata svolgendo tutta una serie di attività di sensibilizzazione, cercando di far conoscere e promuovere l'utilizzo del numero unico di emergenza 112. Infatti in quest'occasione vengono svolte attività nelle scuole, vengono svolte attività anche sui social, vengono rilanciati degli hashtag, si svolgono tante attività, ci sono fotografie, video e tantissime cose che vengono realizzate cercando di spingere molto su quest'argomento. Infatti in Europa siamo sempre più uniti, abbiamo una moneta unica, abbiamo un'economia comune, abbiamo dei confini che sono sempre più vacui grazie agli accordi di Schengen che ci permettono di muoverci liberamente all'interno di tutto il territorio europeo, abbiamo tante piccole e grandi cose che ci accomunano tutti quanti non più come cittadini della singola nazione, ma come cittadini dell'Europa, cittadini della grande nazione europea. E il numero unico di emergenza, da una parte, è uno di quelle piccole grandi cose che ci uniscono tutti quanti. Dall'altra è una cosa molto importante, perché è il modo che ci permette di sapere che dovunque ci troviamo in Europa, dovunque stiamo viaggiando per lavoro, per vacanza, per piacere o per qualsiasi motivo, nel momento in cui ci troviamo di fronte a una situazione di emergenza, siamo consapevoli che per qualsiasi situazione di emergenza possiamo chiamare sempre il numero 112 per avere supporto. L'armonizzazione dei numeri di emergenza in Europa è stato un lavoro molto lungo, perché ogni nazione naturalmente, nel corso della sua storia, ha avuto i suoi numeri di emergenza. Anche qui in Italia abbiamo avuto i numeri brevi per le chiamate di emergenza destinate ai carabinieri, alla polizia, ai vigili del fuoco, alle ambulanze… Ne ho parlato quando ho parlato della storia dei numeri di emergenza in Italia, un episodio di Operazione Nostalgia, che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, così potete andare e capire un attimo di che cosa sto parlando. Ovviamente come ci sono stati i numeri di emergenza differenti per la polizia, i vigili del fuoco e le ambulanze, qui in Italia ci sono stati numeri differenti anche, non so, in Francia, in Germania, in Olanda e via discorrendo. Per via di differenti situazioni e differenti abitudini si sono formati vari numeri di emergenza per vari servizi in varie nazioni. Per esempio mi ricordo che in Germania c'era il 110 per chiamare la polizia, in Italia per la polizia eravamo il 113, in Spagna, se non ricordo male, c'era lo 091 per chiamare la polizia, quindi tanti numeri, tante nazioni, uno se doveva fare un viaggio doveva essere consapevole che se c'era bisogno di un'ambulanza in un posto bisognava chiamare un numero, se c'era bisogno di un'ambulanza in un altro posto bisognava chiamare un altro numero, se c'era un incendio bisognava chiamare un altro numero ancora… Diciamo che questo può creare confusione, soprattutto con la grande diffusione dei telefoni cellulari, la possibilità di poter fare la chiamata di emergenza dal cellulare, anche se non c'è il segnale del nostro operatore quando il cellulare ci dice, appunto, solo chiamate di emergenza, è una cosa molto importante, ma la capacità di riuscire a mettersi in contatto con la sala operativa e di segnalare la situazione di emergenza diventa difficile se ogni nazione ha il suo numero per le emergenze. Ecco che avere un numero unico in tutta Europa facilita moltissimo le cose. In Italia stiamo implementando le centrali uniche di risposta, sono dei meccanismi molto simili al sistema americano del 911, in cui l'operatore che risponde si occuperà di risolvere la nostra necessità di emergenza, che ci sia bisogno delle forze dell'ordine, che si debba segnalare un incendio, che ci sia bisogno di un'ambulanza o che ci sia bisogno di più elementi contemporaneamente, per esempio il crollo di un edificio quindi servono i vigili del fuoco e le ambulanze, oppure un grave incidente stradale in cui c'è anche bisogno delle forze dell'ordine per regolare il traffico, chiudere delle strade e situazioni di questo genere. E le centrali uniche di risposta stanno reagendo molto bene, nonostante magari qualche piccolo, chiamiamolo pure, mal di pancia iniziale. Se volete maggiori approfondimenti sul numero unico di emergenza 112 in Italia, di sicuro vi segnalo il canale AllAbout112, nonostante il nome inglese è un canale italiano ve lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, è un canale in cui si fanno tutti gli approfondimenti sul numero unico di emergenza, su come funziona in Italia, su come funziona l'app WHERE ARE YOU, che è un'app molto importante e che vi consiglio caldamente di installare sul vostro smartphone se non l'avete già fatto, perché grazie a questa app non solo potete contattare più velocemente la centrale unica di risposta, ma grazie a questa app potete inviare alla centrale unica di risposta la vostra posizione GPS e tutta una serie di informazioni molto utili in caso di emergenza. Se siete curiosi di approfondire l'argomento emergenza, attività di protezione civile, chiamate di emergenza, ogni martedì sera, dalle 21.15 alle 22.45 mi trovate su Twitch, sul mio canale Twitch, dove faccio un approfondimento su queste situazioni e rispondo alle vostre domande e ai vostri dubbi su questi argomenti. Quindi non dimenticate di seguirmi anche su Twitch, trovate il link del canale sul doobly-doo e sulla scheda, ma nel frattempo se avete altre domande o curiosità sull'1.1.2 o sulla giornata europea, potete farmela nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag ddvotr. Bene, anche oggi siamo giunti in fondo a questo vlog, veloce come dovrebbe essere una chiamata all'1.1.2. Se sono riuscito a farvi conoscere qualcosa di interessante, come sempre vi invito a mettere pollice in alto e condividere con gli amici, anche su WhatsApp, Telegram e le altre app social. In questo caso, però, no, non mi condividete con l'app WhereAreYou! Le chiamate di emergenza si fanno solo in caso di emergenza. Iscrivetevi al canale per il buon profumo di nuovo iscritto, magari non aiuta nelle situazioni di emergenza, ma avere addosso un buon profumo è sempre qualcosa di gradevole. Seguite il canale Telegram sul doobly-doo e sulla scheda per piccole curiosità dietro le quinte e notifiche quando pubblico nuovi video o vado live sulle app social, come ad esempio Twitch. Infine fatemi sapere in un commento se c'è qualche argomento che vi piacerebbe io trattassi sul diario di Viaggio on the road. Io sono Grizzly e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima! Grazie!